Questo libro è un passo fondamentale per capire ciò che è possibile fare della nostra vita, scoprendo come funziona davvero il nostro inconscio, come comunicare con esso, come rimetterci in contatto con ciò che abbiamo dentro, con l'energia che pervade ogni parte di noi, le persone che abbiamo intorno e l'intero universo che ci circonda, attingendo alla quale non ci sono limiti a ciò che possiamo realizzare. E' il segreto più ben celato che sia mai stato rivelato e ora tutti hanno l'opportunità di scoprirlo. E' l'RQI, il segreto dell'autostar bene. Grazie. Benvenuto. Ora, quello che faremo stasera è cercare di ripercorrere un po', anche per chi non lo conosce, un po' la storia di Marco, introducendo quelli che sono effettivamente i contenuti che in questo libro sono stati raccolti pressoché integralmente. E ci puoi però far capire un po' come è nato questo metodo RQI? Vieni qua a Rimini a un convegno che era il primo convegno nel 2006 o 2007, dove si parlava della medicina informazionale. al Grand Hotel a Rimini e c'erano i professoroni che parlavano il fisichese, lo chiamo io. Io parlo il fincatese, che è più del popolo. Loro parlavano il fisichese. Sei quelli che come il medico scrive le ricette, non capisci niente. Ecco, io mi stavo alzando dalla sala e ringrazio anche un'altra volta il mio primo maestro, si può dire che era Fabrizio, e conosci, conosci un pazzo, ma proprio un pazzo. Cioè uno che ti mette là col dito a farti così, a dirti morte e miracoli tutta la tua vita, cioè lui praticamente col dito mi ha scannarizzato. E quindi mi ha beccato tutti i problemi che avevo, mi accompagnò a casa sua e cominciai a... Cavolo, ho detto ma è impossibile, cioè... E allora, io ho dieci anni che faccio sedute per le ernie. Avevo già tolto un po' i farmaci con i fitonutrienti, gli omega 3, il calcio magnesio. Questo qua è una seduta, mi ha alzato i due centimetri. Non avevo più dolore in tutta la mia vita per una seduta. Quindi dovevo capire cosa erano questi biofotoni, queste medicine informazionali, e cominciare a studiare. Grazie alle conoscenze che mi diede Fabrizio a questo dispositivo, io otto mesi dopo ho autoguarito le mie due ernie. Quindi io ho autoguarito due ernie in otto mesi. Da lì nacque il concetto dell'erre qui. Perché cosa aveva fatto Fabrizio con me? Aveva chiesto al mio inconscio cosa avevo bisogno. Perché lui trattava tante tecnologie e aveva studiato 40 anni di corsi di formazione e aveva fatto questo personaggio qui. Faceva radiostesia, radionica, rolfer, faceva fare riflessologia plantare, sapeva dare i prodotti omeopatici, era naturopat. Aveva presente quelli che tu entri dentro uno studio e vedi solo diplomi. Aveva fatto un sacco di corsi e lui mi spiega guarda, tutto quello che ho studiato è semplice. Quando io e lui lavoravo con l'antenna di Lecker. Quindi io quando vedo che c'è una frequenza sbagliata nel corpo, testo alla persona quale informazione ha bisogno che può stare bene e la persona si mette a posto. Da questo ho cominciato lo studio e poi mi sono trasferito qua. E quando cominciai a imparare da tutti i terapeuti che ti hai messi a punto praticamente il metodo teoricamente. Poi avevo ripagato i debiti che mi ero creato, non sto qua a raccontarvela lunga, mi ero creato dei debiti, ho pagato i debiti, quindi lavorare non avevo più voglia, cioè non avevo più desiderio. E tornai a Vigonza e grazie ai miei genitori cominciai, ho aperto un'associazione che si chiamava Sd VitaPiù. Ok, VitaPiù, già il nome. Ok, e lì mi chiusi per un anno e mezzo in casa a fare test. Quindi il metodo nasce come una sorta di emulazione delle tecniche più efficaci che tu hai incontrato nella tua esperienza personale dopo aver risolto un problema fisico importante che ti portai dietro da tempo e aver visto come alcune tecnologie che non conoscevi prima lo risolsero in modo così veloce e tu hai cominciato a fare dei test per provare a semplificare ancora di più e a mettere in pratica ancora di più quelle tecniche che avevi ricordato. Perché il concetto, quello che mi dava fastidio di più di tutti è che io devo pagare sempre una persona perché lei mi faccia star bene. Basta questa dipendenza. Quindi io ero già da piccolo, grazie a cui devo ringraziare proprio mio papà, mi ha dato il senso di, non è tanto, di indipendenza, di arrangiarsi da soli. Io ho visto mio papà a 14 anni, ha avuto un incendio, nessuno gli ha dato una mano, si è ricostruito la casa due volte da solo con tumore, quindi se uno vuole può. L'importante è avere gli strumenti utili, lui aveva la forza, la determinazione, sapeva fare un lavoro. Io ho detto, perché ci sono poche cose, basta spiegare poche cose, 250 pagine, qui c'è tutto, ma veramente è quello che serve per capire come è autostar bene. Perché non bisogna, come bellissime le testimonianze di prima, soprattutto i medici, mi riconoscono che non serve avere una laurea, non serve avere studiato. Anzi, dico sempre questo, se mi hanno programmato per vent'anni a fare il medico, le multinazionali e la prima causa di morte nel mondo sono le malattie iatrogene, tanto che conoscete, come fa uno che ti programma a vendere farmaci che il farmaco serve per la dipendenza? Ok, come fa un'altra persona a insegnarti a star bene? Quindi ringrazio i medici che si stanno aprendo adesso a queste nuove concettualità. Però era più facile, ve lo finisco, era più facile per una persona come me che lavorava con i medici ma non aveva insegnato medicina, perché se mi insegnavano medicina mi chiudevano. Quindi lavorare con i medici promuovendo delle tecnologie nuove, dei prodotti nuovi, ti ha fatto capire il loro punto di vista e anche i limiti magari dell'approccio. E quello che ho fatto io teoricamente è stato fare, io avevo fatto più di, mi pare, ho fatto il conto, 60-70 corsi di formazione, avevo investito più di 30-40 mila euro in due anni di corsi di formazione. Io ho preso tutte le verità, tutto quello che era vero su tutte le tecniche e le ho messe insieme. Ho preso solo le verità, tutte quelle che, sai quando ci sono due pareri discordanti, ho detto cosa hanno in comune tutte queste tecniche? Ok, questa, questa, questa. E' nata la teoria del metodo Requi. Però la cosa interessante è che comunque alla base del metodo c'è l'idea che non serve, cioè non è un metodo per terapeuti, terapisti. No, anzi, 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 sarebbe un metodo che una persona, tutti dovrebbero imparare a prendersi cura di se stessi. Perché la causa principale delle malattie, dico sempre, dopo non so, se entreremo nell'inconscio, ma è, se non, è come il bambino, che la mamma non si prenda cura del bambino. Quanti problemi hanno i bambini dove i genitori mancano? Eh, il vostro bambino interiore è inconscio, quindi se voi non ci date, ascolto a me, non sono io a preoccuparmi di me, ma do la mia, salute a una persona che il suo interesse, poverino, è vendere farmaci, cioè, capisci, si sente un po' abbandonato e quella è la causa principale dei problemi. Quindi l'intenzione fondamentale del metodo del cui, fin da subito, è stata quella di essere uno strumento pratico per riprendersi, diciamo, cura di se stessi, partendo, diciamo, dal tema della guarigione, anche fisica, però in realtà affrontando un po' tutti gli aspetti del benessere individuale. Quindi con la stessa politica, con lo stesso approccio che si ha con l'autoguarigione, siccome che io sono fatto di atomi e questo è fatto di atomi, il nostro lavoro è fatto di materia, possiamo cambiare lo stato degli atomi proprio. E questo, adesso fai finta di intervistare, ma questo l'hai visto ogni giorno. Sì, diciamo che nella mia esperienza personale quello che ho scoperto iniziando ad applicare le tecniche del metodo RQI a cui mi ero avvicinato in realtà senza capirle così bene prima di conoscerti, è che effettivamente siamo noi a condizionare la nostra realtà. Bravissimo. E farlo vuol dire farlo letteralmente, cioè laddove si sceglie di autoguarirsi e quindi condizionare la propria realtà fisica, quindi il proprio stato proprio fisico, il proprio corpo, è un aspetto. Ma in realtà questo concetto si può applicare con le stesse identiche dinamiche in qualsiasi aspetto della vita. Quindi cambiare fisicamente, materialmente, aspetti della propria vita cambiando prima se stessi. Come dicono tutti, perché qual è il concetto? Infatti il titolo sarebbe stato bello il metodo che unisce le filosofie antiche con la nuova scienza. Ormai anche, ti dico anche l'ultima rivista di medicina, cominciano a parlare di epigenetica che dopo parliamo, parliamo, che è l'ambiente che influenza il nostro corpo, ma non tanto l'ambiente, è la risposta che noi diamo all'ambiente. Se noi cambiamo la risposta che diamo all'ambiente, cambia l'ambiente stesso e questo è il bello. Però il metodo di cui si divide in due fasi, no? Sì. Quindi spiegacelo. Allora, il concetto che infatti bisogna sempre capire è questo. Infatti noi, adesso il libro c'è la teoria e c'è anche un po' di pratica dentro, però il concetto principale noi è quello di, noi facciamo, adesso io faccio i corsi di due livelli, c'è un livello che è il metodo di cui base, che è il primo livello che è, io prima imparo a comunicare con il mio inconscio, individuo quali sono, qual è lo stress, cioè quali sono le informazioni o le frequenze sbagliate nel mio computer come avesse un virus, quindi individuo, prima i virus del computer e poi dico, e poi individuo qual è il miglior antivirus per quel virus, perché il problema principale è questo, soprattutto tutti i corsi che ho fatto ho visto che tutti i prodotti, tutte le discipline funzionano, ma non a tutti, non a tutti, questo è il concetto, quindi molte volte c'erano persone che usavano, non so, delle discipline per un problema, ma se le usavano per un altro problema funzionava, per quel problema l'avevano bisogno di un'altra disciplina, quindi il corso che abbiamo anche domani e dopo domani è prima devo imparare a comunicare col mio inconscio, capire dove c'è da lavorare, quali sono, qual è il vero, perché noi con la mente conscia pensiamo che il problema sia un problema al polso, noi pensiamo che il problema sia qui, invece magari il problema è da un'altra parte e non riguarda neanche il fisico, è una reazione che ho a lavorare con il lavoro, con il datore di lavoro, come farò mai a curare un medico, come farò mai a curare un problema fisico che ha un'origine psicologica, è impossibile? Quindi col metodo di qui riesci a capire l'origine di quel problema lì, se è di materia, energetico, spirituale, psicologico. Quindi la causa. La causa. Quando individuo la causa vado a individuare qual è la soluzione. Quindi molte persone che fanno solo il corso base, il corso multimediale, adesso perché il corso base non ce lo facciamo più a farlo, facciamo solo il corso multimediale, la stragrande maggioranza ha già le soluzioni in casa perché aveva già fatto corsi, aveva già prodotti, col corso multimediale uno è in grado di farci l'omeopatia da solo, non deve più andare dall'omeopata, dal fioridibaco, dall'onturopata. Perché in realtà il metodo non serve tanto a fare qualcosa o guidare verso una direzione, in realtà serve semplicemente a rimuovere tutte quelle credenze, quei blocchi, quelle sovrastrutture, che ci impediscono di prendere le decisioni veramente guardandoci in maniera pulita dentro. In quel caso lì le decisioni sono giuste per forza. Il problema sono i condizionamenti che abbiamo per non poterle prendere. E questo vale anche chiaramente per l'autoguarigione. Cioè se io veramente ho l'intenzione di guarire e so qual è il modo che è giusto per guarire, perché non dovrei guarire? Una volta ripuliti da questi blocchi, da questi limiti e raggiunta veramente una pulizia interiore che permette di avvicinarsi ai propri risultati in maniera più veloce, più efficace, a quel punto siamo talmente abituati a farlo e ci viene in maniera così naturale che il metodo stesso tenderà a diventare meno utile. Ma infatti deve scomparire? Esatto. Cioè è nato perché lo applico X tempo e poi non deve esserci più, non devo più, perché ho talmente avvicinato le mie due, l'emisfero, possiamo chiamare la parte emotiva e la parte razionale, il mio maschile e il mio femminile, il mio cuore e la mia mente. Noi viviamo nella dualità. Quando io ho imparato a unirle, basta perché devo separare ancora. Il metodo serve per unire le due, le diversità. Quando sono già unite non serve più. grazie. Grazie.